Buongiorno dal Tg della mobilità, studenti delle superiori di nuovo in classe da questa mattina a Roma e nel Lazio. Presenza al 50%, l'altra metà proseguirà con la didattica a distanza. Secondo le linee guida stabilite dalla prefettura, il 60% degli studenti entra a scuola alle 8, il 40% alle 10. E il piano dei trasporti accompagna il loro rientro con un potenziamento dei servizi. A partire dall'attivazione a Roma delle linee S, circolari a supporto della metropolitana. Le linee sono attestate capolinea di Anagnina, Laurentina, Stazione Aurelia, Saxa Rubra e Ponte Mammolo. Frequenza di circa 7 minuti, da oggi saranno in servizio al mattino, dalle 7 alle 10 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Potenziate infine 22 linee bus Atac, l'azienda verificherà l'andamento delle esigenze per procedere poi con interventi mirati. Per il momento è tutto gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg della mobilità. Per il momento è tutto gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg della mobilità.